Agility Draft Horses, una disciplina che è arrivata anche in Italia e che aguzza la sensibilità degli umani nel rapporto con gli animali, senza più condizionamenti, ma con una grande capacità di sviluppare un livello di fiducia tale da poter affrontare serenamente qualsiasi difficoltà. I protagonisti principali sono stati giganti gentili italiani provenienti dal Trentino fino ad arrivare alla Puglia, declinati grazie all'impostazione visionaria di alcuni appassionati che vedono nel cavallo, in generale, un diamante dalle mille sfaccettature e il lavoro di Agility si confà alla perfezione alle loro potenzialità. Tutti esauriti, box a disposizione per la Masterclass patrocinata dal Comune di Barete, organizzata da Passione e CITPR in partnership con l'Università di Teramo, con la Facoltà di Medicina Veterinaria, guidata dal professor Carluzzo, con il Centro di Riabilitazione Questra in capo a San Raffaele Viterbo, già a Villa Buon Respiro e all'Associazione di Razza che si è tenuta a Barete, appunto, in provincia dell'Aquila, dal 20 al 22 luglio. In questa occasione si è scelto come Master il CITPR una formula già consolidata in altre realtà professionali accreditate. Nelle relazioni con i cavalli, come gli esseri umani, la capacità di impostare un approccio giusto, leale e rispettoso è fondamentale e può esaltare in maniera virtuosa le potenzialità, arrivando a raggiungere risultati in termini di affidabilità e sicurezza notevoli che rappresentano un valore aggiunto. Un valore inestimabile che dona dignità e si traduce in immagine esterna quando si riesce a dimostrare queste doti senza stravolgere l'aspetto emotivo dei cavalli. La prossima tappa ci sarà a fine agosto in provincia di Padova.